Musica Buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con Sport Today, come ogni giorno siamo in contemporanea su Radio Center Music e su ETV. In primo piano quest'oggi, come sempre, il riepilogo di quello che è accaduto nel weekend sportivo, cominciando dal calcio di Serie B con quello che è successo sabato, ovvero un'altra sconfitta pesantissima questa dell'Ascoli in casa contro il Verona, una sconfitta per 5-0. Tutti i gol nel primo tempo, a fine gara poi la rabbia del tifo bianconero contro la squadra che in questo momento sta davvero offrendo il peggio possibile, considerato anche che siamo verso la fine di un campionato con l'Ascoli in lotta per salvarsi. E' un'Ascoli che però classifica alla mano, oggi giocherebbe play-out per la salvezza insieme con la regina, ma deve anche assolutamente guardarsi alle spalle perché il Vicenza incombe con due punti di svantaggio proprio dai bianconeri. Nella giornata di oggi si è tenuta anche una riunione tra i vertici della società bianconera proprio per capire anche come cercare di risollevare le sorti dell'Ascoli in questo finale di campionato. In primis sarà proprio la squadra in campo e quindi Mister Silva a dover toccare le corde giuste per il rilancio. Scendiamo ancora, passiamo al campionato di seconda divisione nel girone A di Lega Pro si è giocata la 32esima giornata con il Fano che vince ancora ed è il quarto successo di fila 1-0 sul campo del Casale. Peccato tra virgolette per il pareggio della Valle d'Aosta in casa con la Sant'Arcangiolese e la vittoria quasi inaspettata del Rimini in casa contro il Savona per 2-0 perché il Fano resta sempre terzo ultimo anche se avvicina lui il primo posto utile per i play-out occupato oggi dal Valle d'Aosta con 32 punti il Fano ne ha 31 insomma è ancora tutto aperto considerato che anche il Rimini che oggi è quinto ultimo anche esso nei play-out ha 33 punti dunque 2 in più del Fano ma è chiaro che fino a poco tempo fa la formazione di Garda sembrava spacciata oggi invece è ampiamente in corsa per agguantare almeno i play-out. Scendiamo ancora campionato di serie D girone F 33esima di campionato dunque la penultima di quest'annata ancora una sconfitta in casa 4-3 dall'Agnonese Celano batte a strea 2-0 a Marino il San Nicolò passa 2-1 Civitanovese San Cesareo 0-0 Fidenami Ternina 1-1 Maceratese Iesina 2-1 Sambi Iserni a 3-2 Termoli Angolana 3-1 Vispesaro Reganatese 1-0 Classifica con sorpasso della Sambi in testa 68 per gli uomini di Palladini San Cesareo che segue con 67 Termoli 65 Maceratese 63 Vispesaro 57 queste le formazioni sicure di partecipare ai play-off Fuori dunque dal discorso play-off L'Ancona che è sesta con 53 punti Agnonese 52 Astrea 47 Iesina 43 Fidene 40 Civitanovese 39 Angolana e Amiterina 37 Iserni a 35 Celano 32 Recanatese 29 Già retrocesse San Nicolò con 22 e Marino con 20 punti Dunque Ancona che dice addio matematicamente alla corsa play-off dopo la sconfitta di ieri con l'Agnonese per 4-3 Si apre dunque il momento dei processi in casa Biancorossa ne parleremo questa sera nel consueto appuntamento del lunedì con serata Biancorossa dalle 21.30 in diretta Chiudiamo la pagina del calcio con il campionato di eccellenza giunto alla trentesima di campionato Biagio Nazaro Urbani a 1 a 1 a Cingoli il Fossombrone passa 4 a 2 a Corridonia vince la Cagliese 2 a 0 A Grottamare vince il Montegranaro 3 a 2 Matelica Pagliare 3 a 1 a Tolentino L'Elpidiense Cascinare vince 1 a 0 vittoria esterna anche della Monturanese 2 a 1 sull'Urbinelli Vigor Senigallia batte Fermana 3 a 2 La classifica con in test il Matelica già promosso con 69 punti Biagio Nazaro 59, Montegranaro 58, Fossombrone 48, Fermana 44 già in Serie D avendo vinto in settimana la Coppa Italia di Lettanti Tolentino 43, Urbinelli River 41, Pagliare 38, Vigor Senigallia 36, Grottamare 35, Elpidiense Cascinare 34, Corridonia 34, Urbani 33, Monturanese 32, Cagliese 25, Cingolana 20 Il Matelica è già promosso in Serie D avendo vinto il campionato Biagio Nazaro e Montegranaro sono sicure di partecipare ai play-off Corridonia, Urbani, Monturanese e Cagliese invece sono le squadre che si scontreranno nei play-out Corridonia, Cagliese, Urbani, Monturanese, gli accoppiamenti Ed ora la pagina del basket con la penultima giornata di regular season in Serie A1 Sono due sconfitte che fortunatamente per Montegranaro e Pesaro sono indolori Cominciamo da quella della Sutor, Sutor che cade al Palasavelli 90 a 94 contro Siena Che torna alla vittoria dopo quattro mesi La Sutor è andata vicinissima alla rimonta visto che Siena era partita molto molto forte Azzeccando una serie di tiri da tre con i quali scavare e trovare un buon vantaggio Nel finale appunto Montegranaro ha cercato la rimontona che però non si è concretizzata Ma è stata comunque la partita migliore per salutare il proprio pubblico in questo campionato di Serie A1 Con una salvezza conquistata con cinque gare di anticipo Ma un futuro dal punto di vista societario ancora in salita e tutto da scrivere Nel dopo partita ascoltiamo però le parole di coach Recalcati Ci dispiace di non essere riusciti a completare la rimonta Perché credo che se una cosa la partita ha dimostrato è che i ragazzi ci tenevano veramente a vincere Per lasciare un buon ricordo al nostro pubblico Probabilmente noi non abbiamo difeso benissimo come abbastanza spesso ci capita Però è anche vero che una squadra che fa il 58% nel tiro da tre punti Qualcosa di suo ce lo mette senz'altro Oltretutto siamo partiti e loro hanno cominciato a segnare con continuità da tre punti E noi siamo andati sotto nel punteggio E questo poteva magari deprimere qualunque squadra E qualunque giocatore Proprio perché nonostante si cercasse di reagire Di moltiplicare un pochino le energie che avevamo Sembrava tutto difficile e tutto impossibile E lì si poteva effettivamente anche crollare Invece la squadra e i ragazzi sono stati molto bravi Pur essendo in debito di energie ci hanno creduto fino alla fine Hanno messo sul campo tutto quello che avevano come voglia Ma anche di risorse tecniche Che ci hanno permesso di arrivare a un passo dal chiudere il divario con loro Poi dopo chiaramente la giochi un pochino sul filo Anche della lucidità, della maggiore esperienza La partita è andata così Sicuramente loro hanno meritato E noi possiamo dire che non l'abbiamo assolutamente demeritato E se avessimo vinto non avremmo assolutamente ridato niente K.O. anche per Pesaro Per quello che riguarda l'altra formazione marchigiana La Scavolini-Bancamarca infatti è andata K.O. Sul parchè di Varese contro la Cimberio Che si è imposta per 85-70 Super Sacota Che tra l'altro era uno degli ex di turno di questa partita Con 22 punti a referto Invece per Pesaro Si può dire di un Crosariol che ha confermato Con il 67% al tiro Il suo eccellente stato di forma Barbord ha la mano calda per una parte importante dell'incontro E la VL è riuscita a mettere a lungo in difficoltà la capolista Toccando anche il più 8 sul 21-29 al 14esimo Da segnalare i 15 punti di Stipcevic Come detto i 16 di Barbord I 14 di Crosariol Una sconfitta come detto In dolore anche per la Scavolini-Bancamarca e Pesaro Che adesso si prepara alla gara di domenica Per salutare il proprio pubblico E dunque l'Adriatica Arena Nell'ultimo turno di Regular Season di Serie A1 Aveva invece già detto addio Al sogno e all'impresa Di conquistare i playoff la fila aniesi Che ieri è uscita sconfitta Anche in maniera piuttosto netta Nel match di fine anno contro Ferentino 103 a 86 Come sempre Griffin e Maggioli Gli uomini che hanno messo Come dire il marchio sulla prestazione degli Arancio-Blu 26 per Griffin 27 per Maggioli I punti inutili però Ai fini di un successo Che serviva soltanto dal punto di vista platonico E della classifica Perché ormai Iesi come detto Aveva detto addio Al sogno dei playoff Dopo la sconfitta di domenica scorsa In casa contro Trento Iesi che può cominciare a pensare A programmare anche il proprio futuro E chiudiamo questa edizione parlando di calcio a 5 Perché venerdì scorso è arrivata la premiazione ufficiale Una sorta di lieto fine Nella favola della rappresentativa Marche femminile di Futsal Che ha compiuto un mese fa Una vera e propria impresa Quella di vincere il titolo italiano in Sardegna Nella torneo delle regioni Le ragazze allenate da Francesco Battistini Venerdì hanno avuto la premiazione ufficiale Da parte del comitato regionale della FIGC Marche Presenti anche le massime autorità del calcio marchigiano La squadra campione ha ricevuto in dono la maglia celebrativa Con lo scudetto cucito sul petto Ho passato giorni a pensare quali parole utilizzare Per congratularmi con voi senza essere banale La cosa migliore mi sembra dirvi grazie Grazie a nome di questo comitato Perché ci avete reso immensamente orgogliosi Grazie a nome dell'uomo Paolo Cellini Perché ero lì con voi e mi avete fatto emozionare Come non mi accadeva da tanti anni Queste sono state le dichiarazioni Di stima e riconoscenza del presidente Appunto del comitato regionale Marche Cellini Preceduto dalle parole invece emozionate Della responsabile del calcio a 5 Massimo Marchetti Da quelle del suo predecessore E oggi consigliere federale Giorgio Moretti E degli elogi della divisione nazionale calcio a 5 Per bocca del consigliere Andrea Farabini Sembra un sogno ma è realtà Lo slogan con cui il presidente Cellini Ha salutato le ragazze Che hanno conquistato il tricolore Nell'ultimo torneo delle regioni in Sardegna Complimenti a loro Noi invece chiudiamo questa edizione di Sport Today Prossimo appuntamento domani Il primo come sempre alle 19 In contemporanea su Radio Center Music e su ATV Grazie per l'attenzione Buona serata Grazie per l'attenzione